Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno ragazzi facciamo subito il giro vediamo oggi il vincitore sapesi facciamo subito il giro ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono Cecchinato e oggi siamo qui per un altro video news di fortnite per parlare ragazzi oggi di una ricompensa gratis che potremmo ottenere da una nuova collaborazione skin serie di cone andremo a vedere anche il set e altre novità ovviamente uscite nelle ultime ore prima di incominciare solito like mi raccomando iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto con la campanellina detto questo direi che andiamo subito come ormai ogni giorno a vedere anche lo shop infatti oggi ragazzi abbiamo nello shop il set intero di star wars o meglio in realtà non proprio intero perché non ci sono mi sembra alcuni cosmetici infatti ce ne sono in realtà solo alcuni però diciamo che abbiamo tutto questo set poi vedremo se nei prossimi giorni usciranno anche quelli vecchi poi oltre il bando di star wars solite skin che ruotano quindi le conosciamo ormai benissimo e poi le solite collaborazioni che ormai sono no shop da veramente tante tante settimane i sciatori che potrete anche prendere a prezzo scontato se ne prendete due ovviamente e tantissimi altri set veramente enormi guardate non finisce più il shop di oggi detto questo passiamo alla prima news di oggi come possiamo vedere infatti Epic Games attenzione perché sta bannando temporaneamente alcuni utenti che hanno usato programmi insomma i third party per glitch e XP come i bot di Discord quindi mi raccomando non usate questi programmi insomma i third party per fare XP e state pure tranquilli che ovviamente gli XP in creativa i vari trucchetti eccetera quelli potete farli ovviamente nel limite però i programmi da third party mi raccomando non usateli infatti Epic ha iniziato proprio ieri a bannare questi utenti non si sa se è per sempre oppure sarà temporaneo però fatto sta che comunque ricevono un ban questo sicuro altra cosa poi importante del Winterfest parliamo del capannone infatti all'interno ragazzi c'è una nuova sfida che praticamente devi prendere le solite pizze che sono sparse insomma per questo capannone e qua vi metto l'immagine completa di tutte le posizioni esatte se l'ha completato ovviamente vi darà punto esperienza e poi adesso parliamo invece di un nuovo torneo dedicato però solo ai content creator come possiamo vedere infatti Kai Chenat che dovrebbe essere un creatore di contenuti crea un nuovo torneo nella quale c'è un monte premi di 200.000 dollari per ovviamente il vincitore e sarà un torneo che in teoria potranno partecipare solo i content creator non so se ce ne saranno italiani credo che sia più una roba l'estera comunque questo è come possiamo vedere anche l'immagine promozionale del torneo spostiamoci adesso però all'ultima news parliamo di un bundle skin serie di iconic che sarà in arrivo ragazzi esattamente il 25 dicembre nello shop tra cui anche una ricompensa gratis che potremmo riscattare tramite una sua mappa creativa detto questo però guardiamo prima il set che vi metto qua l'immagine c'ha tantissime varianti questa skin e tra altre cose l'ultima variante quella del tipo gladiatore veramente bellissima come variante poi abbiamo il back pack abbiamo il piccone abbiamo pure un bel lo scudone che dovrebbe in realtà essere però un back pack se non erro quindi abbiamo questi questi insomma items tra cui anche una wrap quindi ci sarà anche una copertura armi e come possiamo vedere poi uno spray vi metto anche l'immagine ingrandita quindi come possiamo vedere c'è il piccone copertura il back pack con le ali e poi accanto ragazzi c'è uno spray quello spray è la ricompensa gratis che potremmo riscattare attraverso una mappa creativa che vi metto esattamente qui alla mia destra attualmente non abbiamo il codice ve lo dirò ovviamente nei prossimi video appena lo scoprirò e comunque questa mappa sarà ovviamente disponibile in teoria il 25 dicembre il giorno in cui ripeto uscirà tutto il set nello shop guardando poi in realtà meglio comunque le immagini di questo set secondo me saranno due le skin quindi la prima che magari vi metto qui alla mia sinistra e poi ci sarà un'altra skin che vi metto qui alla mia destra potrebbe essere così non credo che siano tutte varianti incluse in un'unica skin magari sarà così magari no però potrebbe essere che siano due skin differenti voi cosa ne pensate ovviamente scrivetemelo qua sotto nei commenti fatto sai che bella skin serie di cone molto molto carina e quindi semplicemente ci sarà il bundle neoshop ci sarà la sua mappa creativa che potremmo ottenere gratis quello spray e magari anche chi lo sa la copertura armi anche se credo che comunque la butteranno nello shop quindi non credo che ce la daranno gratis quella però insomma questo è per quello che riguarda insomma questo set che uscirà il 25 dicembre detto questo vi saluto mi raccomando like iscrizione ci vediamo ovviamente domani con nuovissimi video bella